Bella a tutti ragazzi, sicuramente per rinnovare il mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su Minecraft Questa volta con l'episodio numero 31 Allora ragazzi, quello che andremo a fare in questo episodio è fottutamente semplice Allora, prima cosa ci craftiamo qua Lo scudo, perché ci sarà utilissimo Ok, perfetto, ci siamo, scudo Ragazzi, lo scudo lo equipaggeremo in caso veramente di cose estreme Perché adesso faremo una cosa assurda Nello scorso episodio, se ben vi ricordate Avevamo costruito quella che doveva essere una torre Io vi avevo detto che la finivamo insieme in questo episodio Ma purtroppo non ci ho potuto lavorare per vari motivi Che appunto vedrete nel vlog di domani Quindi non perdetevi il vlog di domani che troverete qua sotto in descrizione Comunque, cosa andremo a fare oggi? Siccome voglio andare nel land immediatamente Voglio andare nel land assolutamente il più velocemente possibile Quindi noi adesso andiamo prima nel nether Non so perché prima nel nether Però prima voglio andare nel nether E poi nel land Quindi in questo episodio andremo a cercare Quella che è l'ossidiana che ci serve Ragazzi è un casino Mi ci devo ancora abituare che ho la doppia mano Mi ci devo ancora abituare Allora, che cavolo devo fare? Allora, qua spacco tutto Vediamo un attimo Ma c'è qualcuno dietro di me? No Ma raga, ma sono delle bestie I mostri sono diventati potentissimi con sto aggiornamento È assurdo Cioè ragazzi non vuoi più scherzare Non ti puoi mettere a scherzare con i mob Se no ti fottono Ecco qua già c'è della lava Allora Della lava Però Non c'è l'ossidiana Passiamo qua la nostra crafting Vediamo un attimo Perfetto Abbiamo il nostro secchio Però adesso il problema è l'acqua Dove la trovo l'acqua? Devo tornare dove ero prima Lì c'era l'acqua Qua c'è del carbone che raccolgo Raga perché sono a corto di carbone fra poco È vero C'ho il piccone con V Il touch Raga no Vediamo un attimo Possiamola lì Eccola lì l'ossidiana Non di spegnere tutta luce Mi raccomando Perfetto E iniziamo a prenderla Credo che 11 blocchi bastino Ma non è vero Mi sono veramente perso Oh finalmente Raga 25 minuti per uscire da Da una cazzo di grotta Perché avevo perso la strada Boh vabbè Allora Adesso dovrò Craftarmi l'acciarino Che credo che Si faccia E ci vuole un altro ingrediente pure Ok perfetto Ecco qua l'acciarino Questo qui ci servirà per attivare il portale Poi aspettate un attimo il piccone con Viltouch Me lo metto qua nella cassa Adesso voglio un attimo Incantare questo piccone Ragazzi io provo per efficienza 2 Provo per efficienza 2 Adesso vediamo un attimo la sfada Ma andiamo per indistruttibilità Ok ragazzi siamo pronti ad andare nel nether Per la prima volta E' la prima volta in assoluto che ci andiamo Sulla serie principale di minecraft Quindi vediamo un attimo di trovare dove posizionare questo portale Sandy frate e te piccolino Cosa vuoi? Ragazzi vediamo se parte In teoria dovrebbe partire Ecco qua il portale del nether Ragazzi finalmente andiamo nel nether Dopo 31 episodi andiamo nel nether Vi rendete conto? Quindi ragazzi io vado a dormire Ed andiamo nel nether Perfetto possiamo andare Ho preso anche altre torce Ho preso Ce l'ho il Cose si per passare Per fare queste cose qua Poi ho preso Proprio l'indispensabile ragazzi Quindi Fra 3, 2, 1 Entriamo immediatamente dentro l'nether Ok perfetto Ci siamo Sta laggando un botto Ha creato il mondo Perfetto E' spawnato qua In un luogo veramente di merda Complimenti Allora io andando Inizio a piazzare varie torce Così magari non mi perdo Perché una cosa veramente importante Adesso sarà non perdersi Ok qua c'è del quarzo Che ce lo prendiamo Perché serve per abbellire le sculture Tutte le nostre costruzioni Quindi prendiamo il quarzo Voi non potete immaginare Da quando io Voglio venire nel nether Solo per il quarzo eh Qua c'è abbiamo altro quarzo Ragazzi lui è un big man Non mi dovrebbe fare nulla Se non lo tocco Se non gli do un mazzate Non mi fanno nulla Quindi evitiamo Grazie Perché se si mette davanti anche Per pura casualità Cioè praticamente Ci iniziano ad attaccare Comunque ragazzi È un'annotazione che faccio io O sto piccone è una bestia Ragazzi sto piccone Spacca veramente tanto Che è assurdo Ragazzi io sinceramente Volevo andare tipo a vedere Qualche mob Del Del sottomondo Andando qua c'è tutta sta roba Che ragazzi Mi serve Qua mi potevo portare anche Il piccone con V Il touch volendo Ok perfetto L'importante è che Li abbiamo presi Ne abbiamo presi 26 Praticamente servono per creare Queste landerne qui Ma boh io adesso sto camminando Così un po' a caso Ma praticamente vorrei andare Nel largo Siccome io finora largo Non ne vedo Regà Io sapete che vi dico Inizio a spaccare qua E andiamo Cioè ragazzi Giusto per vedere dove arriviamo Ecco qua Siamo finiti in un'altra zona Zona che tra l'altro Tappezzo di torce Per non perdermi Interessante Sto luogo Raga volevo incontrare un ghast Cioè sinceramente ve lo dico Volevo incontrare un ghast Qua c'è tanto bel materiale Facile da prendere ragazzi Iniziamo a rompere tutto Ragazzi io inizio ad andare Verso la via di casa Perché già qua sono messo male Perché già non mi ricordo più Da dove sono venuto Quindi mi orienterò solo Ed esclusivamente con le torce Spero di non aver messo torce a caso Ok perfetto Di qua si ritorna A dove eravamo prima Praticamente Ragazzi è più forte di me Voglio controllare un'ultima cosa Lì sopra Ragazzi se cado di sotto Me la sono andata a cercare No Madonna 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 Perfetto va Spacca qua Che anzi Che siamo arrivati qua Vivi È già un miracolo Perfetto Qua davanti a me Vedo un'enorme distesa Ma la Ma l'andremo a visitare Forse nel prossimo episodio Boh non so Ah perfetto Questo bel viaggio nel land Cioè nel nether Ce lo siamo fatti Perfetto È notte È notte ragazzi Siamo spawnati di notte qua Quindi ragazzi Che dirvi Questo episodio di minecraft Termina qua E spero che vi sia piaciuto Il viaggetto Nel nether Questo qui è uno di quei momenti Importanti Da aggiungere Alla lista di minecraft La prima volta Nel nether Quindi Fatemi sapere se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Inoltre Consigliatemi Altre Costruzioni Da fare per il prossimo episodio Quindi Se volete passare Dalla pagina di facebook Dal proprio instagram Dovete il link Qua sotto In descrizione Iscrivetevi al canale Per un nuovo video Qua da un bel giugno È tutto Bella raga I pari Non Assurdo Veramente assurdo Anzi noi Gli abbiamo detto Un po' di Che cazzo Ragazzi vi giuro Ogni volta Mi sale Una